Musica Fondo monetario internazionale, secondo le anticipazioni dell'Ansa, più pesante del previsto la recessione quest'anno e segno meno anche per il prossimo. Ancora crisi, successo per le aste in Spagna e Francia, in calo i rendimenti, lieve diminuzione allo spread tra i decennali italiani e quelli tedeschi. Il presidente della BCE Draghi dice dovremmo imparare a vivere senza il rating e creare un'agenzia europea, la zona euro starà meglio nel 2012. Liberalizzazioni sui taxi tregua a governo sindacati, ma la base è contraria, la protesta continua e i benzinai annunciano 10 giorni di sciopera. Buonasera, bentornati a Schattici 24 Economia, una puntata in cui parleremo di energie e di liberalizzazioni per comprendere nel concreto come influirà sulle nostre tasche di consumatori il progetto di liberalizzare alcuni segmenti dell'industria energetica, come ad esempio la vicenda SNAM-ENI o la vicenda che riguarda la reti di distribuzione di carburanti. Lo faremo questo con Roberto Timpani, qui in studio con me, che è segretario generale Fegica, c'è la federazione di gestione di impianti carburanti affini, siete voi che avete detto qua si va a scioperare. Benvenuto Timpani. Grazie, esattamente, abbiamo detto proprio così. Collegato con noi da Milano è tornato a trovareci Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, benvenuto. Grazie, buonasera. Ma prima di entrare nell'argomento, nel tema energia, gas, pompe di benzina, torniamo sulla costa Concordia, sul tema naturalmente di questi giorni, ce ne occupiamo anche oggi. Lo facciamo con Roberto Martinoli, che è delegato italiano dell'European Cruise Council, che è un po' l'associazione di categoria europea di tutte le società che ci fanno andare in crociera. Benvenuto Martino. Buonasera, grazie. Allora, cominciamo proprio da lei, energia e cominciamo dalla benzina. Allora, Roberto Timpani, lei rappresenta i gestori di carburanti della sigla fegica. Voi oggi avete detto che la liberalizzazione non c'è e quindi ci prepariamo. Se domani il testo conferma, quello che è circolato nelle bozze di oggi, a dieci giorni di sciopero. Innanzitutto, Timpani, se è confermato, avete già un'idea di quando saranno tutti insieme, partiranno subito? Ci può dare qualche indicazione per andare anche a fare il pieno prima, magari? Sì, certamente. Cercheremo di rispettare le regole, ovviamente. In materia di scioperi sono piuttosto codificate anche queste. Però, evidentemente, una risposta immediata, in tempi molto a molto ravvicinati, a questo punto ci dovrà essere. Mi permetto semplicemente di precisare che forse siamo stati, insieme all'altra federazione, che è la Faibe Confesercenti, una delle poche associazioni che, a fronte della liberalizzazione o delle liberalizzazioni ideate dal governo Monti, hanno invece applaudito e hanno sostenuto le liberalizzazioni. Quindi voi eravate contenti di quello che era uscito, poi dopo voi dite che c'è stata una marcia indietro. Allora, vediamo di capire innanzitutto di cosa stiamo parlando. Voi vi siete arrabbiati perché, sostanzialmente, nel testo che dovrebbe diventare domani ufficiale, si dice che cosa, Timpani? Si dice molto semplicemente, si prende in giro un po' il cittadino. Nel senso che noi, nelle prime indiscrezioni, nelle prime versioni, abbiamo trovato le risposte a un riequilibrio dei prezzi in Italia. Da quello che abbiamo potuto verificare, sostanzialmente non cambia niente. Nel senso che, anzi, si dà mano libera all'industria petrolifera di continuare in questa egemonia che ha sul sistema dei prezzi, del sistema dalla raffinazione fino alla distribuzione finale, quindi mantenendo intatti tutti gli strumenti della filiera, che sono quelli che, a nostro modo di vedere, e ci pareva di aver trovato anche dei sostenitori, sono quegli strumenti della filiera, rigidi, che inducono ad avere un certo monopoio. Insoldoni, voi avreste apprezzato il fatto che il gestore, non il proprietario, della pompa di benzina potesse scegliere lui, magari non tutto, ma in parte, di andarsi a prendere la benzina dove voleva, non essere vincolato a un marchio, il marchio quello che c'è scritto oggi su quasi tutti i distributori di benzina, in modo da andare a trovare anche laddove il prezzo è più basso alla raffinazione e offrirlo ai clienti con degli sconti. Tabarelli, hanno ragione i benzinai a essere arrabbiati? Potremmo avere più sconti? Il pieno sarebbe un po' meno caro se ci fossero più, come si chiamano, pompe bianche, cioè distributori dove non c'è il logo famoso delle grandi compagnie, ma c'è un benzinaio che va a prendersi la benzina dove trova più economico e poi ce la vende. Ma adesso, in questo momento, ci sono molti punti vendita senza logo, ci sono circa 1.500 su quei 23.500 che avete fatto vedere, che hanno spesso, non sempre, sono circa 600 quelli che fanno poi dei prezzi più bassi, ce n'è qualcuno che li fa molto bassi, perciò qualcosa si risparmia, ma non andiamo in media di quei 600 che, ripeto, su 23.500 oltre le 5 centesimi, c'è che dice anche 10 centesimi e questo lo contesto io. Ricordo che nell'ultimo anno il prezzo, che attualmente è sopra 1,75, cioè 175 centesimi, per 60%, cioè un euro e tasse, un altro 30%, cioè circa 60 centesimi e prezzo internazionale, e il prezzo italiano su cui fare lo scoto di 5-10 centesimi sono 15 centesimi di costi di distribuzione. Tavarelli, infatti su questo mi ha tolto la domanda di bocca, perché allora il governo, anzi i governi, quello precedente e quello attuale, in sei mesi hanno messo 20 centesimi di tasse sulla benzina, cioè ci hanno caricato sopra di tutto per fare cassa, quelli sono soldi che arrivano subito sicuri. Adesso andare a limare su appunto la rete di distribuzione per farla costare meno, non ricordo un po' quel proverbio rumeno che dice c'è il villaggio brucia e la vecchia si pettina, cioè succede una cosa molto grave e ci si occupa di dettagli. Hanno ragione i rumeni oppure è importante questa storia? Purtroppo hanno ragione i rumeni, cioè nell'ultimo anno il prezzo della benzina, del gasolio, è aumentato di 30 centesimi, 20 per tasse, come diceva lei, e 10 centesimi per il prezzo internazionale del petrolio, perciò legato all'OPE, alla finanza internazionale, che cosa che non controlliamo. Di liberalizzazione, contrariamente a quello che si dice spesso, noi su questo settore ne parliamo da tantissimo tempo, ricordo che il prezzo della benzina, del gasolio, sono stati liberalizzati ufficialmente il 16 settembre del 1991, sono passati più di 20 anni, poi ci sono stati vari tentativi, e nel frattempo le cose più semplici, che secondo me andrebbero fatte, ma andavamo fatte anche prima, tipo gli orari, quelli andrebbero liberalizzati sempre, sono stati un po' aumentati questi, ma non è sufficiente. Dentro il provvedimento c'è una cosa importantissima, che è positiva, che è quella di poter vendere tutto quello che vogliono. Alcune parti dei gestori volevano di più, ecco questo di più però si discosta nettamente, poi non so, qua possiamo discutere, ma la cosa sicura è che saremo stati l'unico paese al mondo che introduceva o che introdurrebbe questo obbligo di vendere una parte dei distributori agli gestori, oppure quello di forzare o di dare la possibilità a alcune pompe bianche di andare a fare benzina dove vogliono, tra l'altro la cosa è libera anche adesso. Per farci capire uno legge Agip, ma in quello di distributore poi c'è anche altra benzina, perché il gestore se lo può andare a prendere da un'altra parte. Negli Stati Uniti ci sono. Quello che non dice il dottor Taparelli, che saluto caramente, è che quelle pompe bianche, perché è questo che bisogna capire, le pompe bianche che fanno i 10 centesimi, sui quali si può discutere fino a domani mattina, comprano il prodotto dalla stessa Agip. Cioè sono le stesse compagnie petrolifere che smaltiscono i surplus di raffinazione per non chiudere le raffinerie. Quindi il mercato è sempre quello, non lo vanno a prendere a mare. Tim, abbiamo visto che il numero di queste pompe bianche, che ricordiamo cosa sono, perché è un termine gergale tecnico, sono pompe di benzina che non hanno il marchio della grande compagna, dove il benzinaio se la va a prendere appunto raffinata in altri posti e appunto la vende con degli sconti. Sono in aumento comunque. Come mai non basta la legislazione vigente, visto che ce ne sono sempre di più. Voi i benzinaio, come funziona la cosa? Avete una convenzione con un marchio di ditta petrolifera e quando scade non potete diventare una pompa bianche? No, per una ragione molto semplice, molto a molto sinteticamente. Le pompe cosiddette bianche prendono il prodotto dalla stessa industria petrolifera italiana e hanno questo vantaggio, che sono proprietarie degli impianti. Noi abbiamo, invece, non siamo proprietari degli impianti, ecco l'assurdità, l'anomalia a cui faceva riferimento Tabarrelli, e siamo obbligati a comprare dalla pompa, come dire, dal marchio dal quale... Quindi, perché i piccoli... Cioè, quando io faccio benzina, capita molto di rado che il benzinaio che vedo sia proprietario di quella... Di quella pompa bianche. E' rarissimo, saranno 200 casi in tutti i dati. E quindi voi volevate la possibilità anche per chi semplicemente gestisce di rifornirsi nel mercato, diciamo, all'ingrosso, un po' dove voleva. Naturalmente staremo a vedere se domani questo sarà tutto vero. Tabarrelli, veniamo adesso alla questione SNAM, perché spesso noi parliamo di taxisti, di farmacie, di benzina, cioè le cose che si vedono di più, quelle più vicine anche all'esperienza comune. Poi le grandi cose che sono magari anche finanziariamente molto importanti sono più astratte. Ci spiega semplicemente lei che è un esperto che cosa vuol dire per la famiglia Rossi se il governo decide che SNAM deve proprio divorziare completamente da Eni, si stacca proprio. Purtroppo non significa granché, non cambieranno le cose immediatamente, cioè il gas continuerà ad arrivare attraverso questi tubi che ha fatto su 30 via chilometri di un sistema di gas straordinario che ha costituito l'Eni a partire dal 1941, poi dopo ha sviluppatosi parecchio negli ultimi 20-30 anni. La parte integrante di questa grande compagnia petrolifera che ripeto era nazionale, si chiama tuttora Ente Nazionale di Drograburi, è un gioiello e le liberalizzazioni che contrariamente a quello che si dice anche qua sono partite da molto tempo, la direttiva gas del 98, il suo recepimento in Italia nel 2000, e ha sempre imposto una separazione. Questa separazione fino adesso è stata formale, anche se non si vedono le due società, l'Eni possiede il 52% di tutte queste reti, di questi tubi, l'obbligo adesso sarebbe quello di venderle completamente, cioè fare quello che è stato fatto per l'elettricità con Terna ed Enel. Esatto, Tavarelli, chiariamo questo punto perché è esattamente la stessa cosa, Enel era proprietaria dei tralicci e dei cavi in cui passava l'energia per liberalizzare il mercato, fare entrare anche concorrenti di Enel, si è detto Enel no, adesso tu questa roba la vendi, si fa una società diversa, che appunto poi Terna, e hanno tutti sempre detto è andata molto bene questa liberalizzazione, perché Tavarelli la stessa cosa con i tubi del gas, secondo lei, non avrebbe un buon risultato? Qualche risultato ci sarebbe, ma sul fatto che sia data bene Terna e Enel, cioè le cose sono date meglio nell'elettricità perché c'è stato un enorme flusso di investimenti, infatti sono stati eccessivi, cioè soprattutto dei cicli combinati che hanno fatto entrare nuovi operatori nella produzione e nell'offerta di questo bene che è il kilowattora. Nel gas la stessa cosa, magari serve separare, ma la cosa importante è che questi che entrano si facciano i loro investimenti e che portino il gas. Dire solo adesso creiamo per mercato e separiamo i due non è assolutamente sufficiente, qua il problema è disancorare il prezzo del gas dal petrolio e questo è il grande punto centrale che dobbiamo affrontare e si può fare solo creando più offerta. Questo può aiutare, ecco, ma la Stamrete Gas già adesso ha dei grandi impegni nell'espandersi. Certo, la separazione può aiutare l'importante fra l'altro che sia fatta tutta intera, ecco, che non si svendano dei pezzettini di Snam adesso. Cioè non solo i tubi diciamo, ma anche tutto il resto. Sì, anche gli stoccaggi, anche le reti di distribuzione. non è un grande fan dello scorporo di Snam da Eni, tra l'altro la presidenza di Snam c'è Binismaghi, cioè un personaggio importantissimo, ex membro italiano del board della BCE, un personaggio di così gran peso in quella società forse vuol dire che ci saranno grandi manovre europee anche sulle reti? Tabarelli, abbiamo pochissimi secondi. Ma sì, è probabile, per carità, vengono pure le privatizzazioni, questo è un gioiello, è grande ricchezza che appartiene ad una società italiana e va trattata come tale, perciò con un'estrema delicatezza. È il cuore del nostro sistema energetico che quello porta all'energia gli 80 miliardi di metri cubi che arrivano fra l'altro tutti dall'estero, ci abbiamo qualcosa nazionale, verrà sempre di più, questo gas viene portato alle centrali per fare l'energia elettrica, per riscaldarci, per fare andare le industrie. Insomma, molto molto strategico. Tabarelli ci ha fatto appunto capire quanti siano delicati questi equilibri quando si parla di queste cose. Il nostro tempo è finito, e ringrazio gli ospiti che sono stati con noi. La Lina torna al telegiornale. Questa è Sky TG24.